buongiorno in questo video parliamo di no code di site builder insomma di tutte le soluzioni quelle per farsi siti da soli negli ultimi anni ne sono venute fuori una valangata assoluta e ti voglio mollare lì una chicca anche noi ne avevamo fatto uno nel lontano 2008 tipo quando web era fatto di cartoncino diciamo c'era un caccia che si era inventato un internet parallelo quello era il web del 2008 noi c'eravamo inventati questo creatore di siti che alla fine dopo quattro anni di sudore sangue lacrime lavorando veramente 24 su 24 eravamo in quattro all'epoca l'abbiamo fatto finalmente uscire è una figata a tommy che si chiamava klizzle klizzle scritto klizzle era klizzle ed era una figata assurda ti potevi fare il sito in html te lo potevi fare in flash non mi devi ridere in quel momento flash si usava ancora per i siti poi la questione si è fatta importante perché insomma non c'eravamo molto bene resi conto eravamo giovani ci siamo fatti un po' schiacciare dal progetto che alla fine è diventato immensamente più grande di noi anzi siamo resi conto che era più grande di noi e abbiamo chiuso tutto però è figo abbiamo fatto e non ce n'erano altri in quel periodo quindi erano fra i primi sono super orgoglioso di questa cosa anche è stato un fallimento totale ma al fine parentesi nostalgica stiamo parlando di quelli che ce l'hanno fatta invece quelli bravi wix eccetera eccetera se ne parli con un web designer secondo me 9 su 10 ti dicono che è una merda e tutto quanto si indignano perché pensano che questa cosa gli possa portare via del lavoro segno secondo me che hanno palesemente malinterpretato il loro ruolo e la loro professione se invece lo chiedi a uno che si vuole fare il sito da solo e che magari l'ha appena scoperto ti dice ah bello così finalmente non mi serve più niente il web designer perché tanto è una roba di troppo alla fine che ci vuole basta che fai schiacci bottoni e fai le cose anche qui secondo me mancano delle informazioni ovviamente non hanno ancora provato a farlo probabilmente altrimenti capirebbero che le difficoltà ci sono e sono altre sono in altri punti ecco in questo video ti volevo parlare un pochettino e fare il punto su questa cosa del in generale del no code di tutte queste soluzioni di per per farti siti da soli o per fare siti senza scrivere il codice ok più in generale visto che non me l'ha chiesto nessuno ma mi andava di parlarne quindi siccome il canale mio ho deciso che lo facevo partiamo da un presupposto anzi due presupposti il primo presupposto è che ti devi iscrivere al canale e mi devi anche attivare la campanellina altrimenti veramente guarda il secondo presupposto è che un sito è prima di tutto uno strumento di comunicazione non è una roba tecnica è uno strumento di comunicazione e creare un sito web richiede varie competenze diverse fra loro alcune di natura molto tecnica alcune di natura un po più creativa alcune conoscenze più più generali di comunicazione e cose del genere quindi abbiamo la scrittura del codice la scrittura dei contenuti la definizione dell'alberatura del sito non in quest'ordine ovviamente la definizione dei flussi di navigazione l'inserimento di tutte quante le call to action la progettazione delle interfacce utenti in modo da disegnare un percorso per l'utente insomma ci sono varie cose però possiamo semplificarle al massimo e dire che si può dividere in due questa parte una parte che è la parte più strategica e di progettazione e una parte che è la progettazione grafica e del codice e finché campo ripeterò a macchinetta che la parte importante fra queste due cioè quella che fa sì che il tuo sito funzioni perché un sito è uno strumento di comunicazione come ci hanno detto che deve funzionare vuol dire che deve fare qualcosa non che non deve cresciare vuol dire che la gente arriva e deve fare quello per cui il sito è stato progettato altrimenti non ti serve a niente ecco perché questo succeda il sito deve essere prima di tutto progettato bene e deve comunicare in maniera corretta tutto quello che volevi comunicare e per questo un sito con un codice codice inteso come codice html meno performante un pochettino più lento ma con una comunicazione corretta dei flussi di navigazione studiati una grafica magari un pochino più banale non ho detto brutta che sembra degli anni 80 ho detto banale il classico template preso utilizzato così com'è tolto che parentesi i template che compri 9 volte su 10 sono molto più belli di qualsiasi sito ti disegni qualcuno perché questa cosa diciamo chiudiamo un attimino qua fra me dentro lo dico poi non lo dire nessuno per disegnare e progettare un template gli sviluppatori magari ci impiegano tre mesi quattro mesi perché insomma è una roba che poi devono rivendere se invece tu ti fai disegnare il sito dal tuo grafico di fiducia 9 volte su 10 per stare nei costi che tu gli dai perché altrimenti lui sarebbe anche più bravo e potrebbe fare delle cose meravigliose e dalla fine prende il riarrangio della roba che ha già lì insomma ed è normale non è una cosa cattiva contro i grafici è normale che sia così anche noi facciamo così non è che rinventi la ruota da zero quindi alla fine questa grande differenza poi a meno di avere dei budget veramente importanti e allora fare delle cose al di sopra di tutto questo non è che cambi proprio tantissimo comunque dicevamo che un sito con queste caratteristiche cioè che funziona bene e anche se è un po' banalotto magari però funziona bene la gente non si perde fra i menu è tutto chiaro tutto semplice il messaggio è corretto è coerente ci sono le call to action giuste funziona sempre meglio di un sito fatto fighettino tutto quanto con l'animazioncine tutto giusto ma senza le call to action dove servono che l'utente si perde arriva non capisce che cazzo vendi tutte queste cose capito cioè tra queste due cose la parte importante è la comunicazione non il codice poi ovviamente non sto dicendo che non serve a niente io nasco come sviluppatore quindi queste cose conosco non è che mi remo contro però alla fine il meglio sarebbe avere tutto e secondo me presto arriveremo anche con i site builder ad avere questo però se devo rinunciare a un po' di cose preferisco rinunciare a un pochino di performance ma per il resto che il sito funzioni bene dal punto di vista progettuale quindi come ci siamo detti ci sono servono un sacco di cose per fare un sito web e la parte di codice e anche di grafica che sono le due cose che un site builder di per sé ti toglie un pochettino di mezzo sono solo una delle competenze per quello ti dico che se un professionista si sente minacciato da un tool secondo me si deve fare delle domande quindi se sei uno di quelli che va sotto ai post di wix sponsorizzati a scrivere fate schifo perché siete delle merde così secondo me prima di tutto non hai capito bene chi sia il tuo target perché la gente che si vuole fare il sito da sola non è la stessa che lo vuole che vuole pagare te per farglielo quindi in realtà non sai neanche a chi stai parlando e in più se lo chiedi a me sei pure un po ridicolo e rosicone allo stato attuale detto questo secondo me i site builder classici quindi vari wix squarespace fluxio che è italiano anche hanno fatto rispetto a qualche anno fa secondo me dei salti di qualità assurdi cioè io a me è capitato di mettere le mani nei siti wix ultimamente e ad analizzare anche anche un po il codice e tutto quanto e cioè rispetto a 4 5 anni fa siamo veramente in un altro pianeta e il gap con altre soluzioni secondo me si è ridotto tanto detto questo continuo a pensare che al momento vadano bene se ti vuoi fare il sito da solo ma ancora forse ti conviene fare un passettino in più perché ormai è veramente un passettino in più e spostarti su wordpress che per esempio con elementor ti dà la possibilità di creare il tuo sito nella stessa maniera perché comunque diventa un site builder anche quello ma di avere delle performance ma soprattutto una libertà diversa con i site builder il codice è ancora un po pesantino sei legato a un canone annuale o mensile adesso poi dipende da site builder in cui scegliamo in cui alla fine il dominio è loro e anche un po il sito è loro quindi alla fine non ci siamo ancora in più l'hosting giustamente è gestito da loro e ai server in culandia tipo a 10 mila chilometri e quindi la latenza insomma è un po alta quindi nelle performance non sono proprio da scheggia insomma secondo me ancora non ci siamo anche se siamo veramente vicini ma detto questo è se uno si fa il sito da solo e se lo fa con x o una di queste cose qua se è progettato bene secondo me non è come non averlo ecco quella quella mi sembra una gran puttanata quando la sento mi viene un po da ridere se il sito è come non averlo o meno non dipende dal tool che hai utilizzato se l'hai fatto da zero ma da quello che comunica e da la gente che lo visita quindi dal traffico che riesce a indirizzarci detto questo sono certo che a breve avremo dei site builder ancora più performanti allora lì il gap si ridurrà ancora di più e il gap con siti wordpress ma magari anche siti custom si ridurrà talmente tanto per cui effettivamente converrà utilizzarli anche ai professionisti al momento non credo sia così e comunque questa cosa cioè quando questo succederà secondo me è una cosa buona non è una roba da vedere con sospetto con adesso ci porta via al lavoro a tutti insomma il succo di tutto questo è che in nessun modo un tool un site builder una soluzione no code in generale toglie professionalità a nessuno semplifica una delle due parti del lavoro tra l'altro semplifica perché poi questi tool vanno comunque studiati e non è che ci voglia mezza giornata a capire come funziona sono molto semplici sono fatti bene alcuni e quindi sicuramente ti danno una grande mano in quello dall'altra parte ti servono tutte delle altre competenze che si possono acquisire e il sito da solo te lo puoi fare tranquillamente quindi la scelta rimane quella di prima cioè puoi decidere di farti il sito da solo studiando quel poco che ti serve ora dal punto di vista tecnico prima ti serviva molto di più e dedicarti invece a studiare meglio tutta la parte di comunicazione o puoi decidere di non avere voglia di farlo o non avere le competenze per farlo e di mandarlo a qualcun altro e ti dico nella maggior parte dei casi visto il livello io sono anche d'accordo su questa cosa per quello spero si capisca questo non vuole essere uno spot a rivolgerti a un web designer per fare il tuo sito se lo vuoi fare va benissimo cerca uno bravo e fallo fare a lui se non lo vuoi fare ci sono tantissime possibilità tantissime informazioni tantissimi modi di acquisire tutte le competenze di iniziare a provare a mettere insieme il tuo sito fare i tuoi test e farlo funzionare sempre meglio certo è che ci sono delle cose che vanno studiate e non ci vuole mezza giornata soltanto perché usi un site builder non ti devi scrivere il codice da zero e continuo a pensare che soprattutto visto il livello medio che vedo in giro la persona più adatta per comunicare al meglio i propri prodotti i propri servizi la propria passione i propri valori sia più tu che non il l'amico cugino che è bravo col computer o la web agency magari gigante che siccome il tuo budget non è abbastanza tutto quello che non gli conviene che può non fare lo fa e ti mette insieme una roba tanto per dartela e con questo direi che ho detto tutto se hai dubbi domande se sei un web designer e vuoi insultarmi credo che sia legittimo puoi farlo tranquillamente qua sotto e niente direi che ci vediamo al prossimo video ciao